Così cominciò il soggiorno di Giacobbe nel regno di Labano e in Aram Naharaim, che egli tra sé e sé molto ragionevolmente chiamava Curungia, prima di tutto perché fin da principio quello fu per lui il paese del mondo infero dove Fuggiasco era dovuto migrare, ma in secondo luogo perché, come si mostrò con gli anni, questo paese, circondato da fiumi, lo tratteneva e palesemente non lo restituiva più, cosicché si rivelava davvero e alla lettera il paese da cui mai e poi mai si fa ritorno. Che cosa significa mai e poi mai? Significa mai, per tutto il tempo in cui l'io, almeno in maniera approssimativa, conserva ancora il suo stato e la sua forma, ed è ancora se stesso. Un ritorno che avviene dopo 25 anni. Non riguarda più lo stesso io che quando partì sperava di ritornare in mezz'anno o al massimo entro tre anni e che dopo quella pausa sperava di poter riannodare il filo della sua vita là dove era stato interrotto. Per questo non vi sarà mai e poi mai un ritorno. 25 anni. Non sono una breve parentesi. Sono la vita stessa. Sono, se si comincia a contarli dall'età in cui il giovane sta diventando uomo. Il nocciolo è la sostanza stessa della vita. E anche se dopo il suo ritorno Giacobbe visse ancora a lungo e conobbe le ore sue più gravi e sublimi, quando, ritornato nel mondo infero, solennemente si dipartì dalla vita, aveva, secondo il nostro esatto calcolo, 106 anni. Possiamo ben affermare che egli sognò il sogno della sua vita presso Labano, nel paese di Aram. Lì egli amò. Prese moglie. Lì da quattro donne gli furono generati tutti i suoi figli, a eccezione del più piccolo. 12 di numero. Lì accumulò ricchezze e dignità per numerosa figliolanza. E non fu più il giovane a tornare, ma, al suo posto, un uomo che cominciava a invecchiare. Un uomo di 55 anni, uno sceicco nomade dall'Oriente, alla testa di un grande stuolo di greggi, che entrò nell'Occidente come in un paese straniero, e si diresse verso Shechem. Che Giacobbe sia rimasto 25 anni presso Labano. È vero. Come si può dimostrare e come risulta da ogni indagine sagace. Su questo punto poesia e tradizione mostrano una modalità di pensiero la cui, in precisione, potremmo perdonare meno facilmente a noi che a loro. E se vogliono che Giacobbe abbia trascorso presso Labano in tutto venti anni, quattordici e sei. Con questa ripartizione seguono l'opinione secondo cui Giacobbe, molti anni prima di rompere i polverosi serrami e di fuggire, avesse chiesto a Labano il suo licenziamento e, non avendolo ottenuto, si fosse obbligato a rimanere ancora presso di lui sotto nuove condizioni. Il momento in cui egli fece questo viene precisato con le parole Quando Rachele ebbe partorito Giuseppe Ma quando avvenne? Se fossero passati solo quattordici anni, durante questo periodo, o meglio, negli ultimi sette anni, Giacobbe avrebbe già dovuto avere tutti e dodici i figli, compresi Dina e Giuseppe, ed escluso Beniamino, cosa in sé e per sé non impossibile, poiché quattro donne erano all'opera, ma che tuttavia non avvenne, perché altra fu la successione dei parti, voluta da Dio. Secondo questa, già Asher, il ghiottone, di cinque anni maggiore di Giuseppe, venne al mondo dopo un periodo di due volte sette anni, cioè nell'ottavo anno di matrimonio. E come si dimostrerà più particolarmente in seguito? Non è possibile che Rachele abbia partorito Giuseppe prima che fossero trascorsi due anni dalla nascita di Zebulon, amante del mare, cioè prima del tredicesimo anno di matrimonio, o nel ventesimo del soggiorno a Ciarran. E come potrebbe essere altrimenti? Giuseppe era un figlio generato in vecchiaia, e Giacobbe doveva avere 15-50 anni quando gli nacque il prediletto. Per conseguenza, già allora doveva avere trascorso 20 anni presso Labano. Ma poiché di questi 20 anni, solo due volte sette, cioè 14, furono quelli spesi veramente al servizio di Labano, restano tra essi e l'epoca del licenziamento e del rinnovo del contratto, altri sei anni che rappresentano un periodo non regolato da alcun contratto, una tacita continuazione della vita di Giacobbe presso Labano. Tuttavia, considerati in rapporto con la finale ricchezza, quegli anni debbono computarsi insieme con gli ultimi cinque del suo soggiorno, regolati di nuovo da un contratto. Ma anche concedendo che proprio questi ultimi abbiano recato il contributo più cospicuo e determinante al fine di spiegare come Giacobbe potè divenire straordinariamente ricco, tuttavia non sarebbero bastati per accumulare un capitale che, in ogni tempo, poesia e tradizione hanno celebrato con grande dovizia e profusione. Ammettiamo pure che si sia incappati in forti esagerazioni e che si riveli subito insostenibile l'affermazione secondo cui Giacobbe avrebbe posseduto 200.000 pecore. Ma erano senza dubbio varie migliaia, senza contare le altre specie di bestiame e in molti valori in metallo e gli schiavi. Le parole poi di Labano, quando raggiunse il genero in fuga, che gli restituisse quello che aveva rubato di notte e di giorno, non avrebbero avuto nemmeno un'apparenza di giustificazione, anzi sarebbero state addirittura senza senso se Giacobbe si fosse arricchito solo in base al nuovo contratto, se non avesse già prima, cioè in quel periodo intermedio, ampiamente lavorato e amministrato per proprio conto e gettato così le basi della sua futura ricchezza. 25 anni e trascorsero per Giacobbe come un sogno, come la vita per colui che vive anelando e conquistando tra speranze e delusioni e vittorie un succedersi di giorni che l'uomo non conta e di cui ognuno porta con sé qualcosa di suo, giorni che, nell'attesa e nello sforzo di conseguire una meta, nella pazienza e nell'impazienza ci si lascia alle spalle l'uno dietro l'altro, uno per uno, ma che poi vanno a fondersi insieme in unità più grandi, in mesi, anni, gruppi di anni, dei quali ognuno alla fine è come un solo giorno. È dubbio che cosa faccia passare meglio e più rapidamente il tempo, l'uniformità o l'eterno mutamento. In ogni caso, lo scopo è sempre lo stesso, che il tempo passi. Ciò che è vivo tende ad avanzare, a consumare il tempo, tende in fondo verso la morte, mentre crede di tendere verso mete e decisive svolte della vita, e se anche il tempo del singolo individuo è ordinato e suddiviso in epoche, tuttavia, come tempo suo, è uniforme, trascorrente sempre secondo i presupposti sempre uguali del proprio io, così che nello scorrere del tempo e della vita si trovano sempre all'opera contemporaneamente le due forze a lui propizie, l'uniformità e l'articolazione. Così la suddivisione del tempo finisce con il diventare qualche cosa di arbitrario, non molto diverso dal tracciare linee sull'acqua. Si possono tracciare in un modo o nell'altro e, mentre vengono tracciate, tutto finisce e si fonde nuovamente insieme in una vasta unità. Abbiamo già suddiviso in diverse maniere il periodo di cinque volte cinque anni trascorso a Ciaran da Giacobbe, in venti e cinque e in quattordici e sei e cinque. Ma egli avrebbe potuto dividerli anche nei primi sette fino al matrimonio, e poi nei tredici in cui gli nacquero i figli e infine nei cinque anni complementari che come i cinque giorni intercalari dell'anno solare andavano oltre i dodici volte trenta. Dunque poteva calcolarli in questo oppure in un altro modo. In ogni caso furono in tutto venticinque anni uniformi non solo perché tutti di Giacobbe ma anche perché secondo le circostanze esteriori gli uni tanto simili agli altri da confondersi fino a diventare un tutt'uno e la prospettiva diversa in base a cui furono di volta in volta vissuti. non era sufficiente a intaccare e ad attenuare l'uniformità del loro scorrere.